domenica 5 novembre tra le 18 e le 19 l'aurora boreale si è manifestata in tutto il suo splendore sul cielo italiano soprattutto nelle aree di montagna e nel nord est si tratta di un fenomeno raro alle nostre latitudini certamente un vero incanto per chi ha avuto la fortuna di poterla ammirare noi siamo in collegamento con roberto ragazzoni professore del dipartimento di fisica astronomia direttore dell'osservatorio di padova e per scoprire di più su cos'è l'aurora boreale e quali fattori l'hanno portata fino al nostro territorio intanto buongiorno professor ragazzoni grazie per essere in collegamento con noi sul bo live buongiorno grazie a tutti a tutti e partiamo subito vuol dire che un fenomeno della nostra atmosfera in alta quota tra 100 e 600 chilometri poi capiamo perché diciamo detto tra 100 e 600 perché è importante per riuscire a vederle dalle nostre latitudini molto lontane dal polo nord e intanto bisogna ricordare che il polo nord terrestre cioè il polo nord geografico non è il polo nord magnetico che invece è verso il canada e dall'altra parte diciamo del del mondo se vogliamo un leggermente ma abbastanza per cui siccome questo fenomeno è dovuto all'interazione delle particelle cariche energetiche prodotte dal sole quello che è il vento solare queste particelle colpiscono l'atmosfera terrestre e la eccitano e il campo magnetico terrestre diciamo le fa dare delle forme continuamente cangianti attorno al polo nord magnetico che è più vicino al canada che diciamo alla svezia e la norvegia quindi per esempio a new york si può vedere l'aurora boreale più facilmente che da padova semplicemente perché il polo nord magnetico è più vicino al continente nord americano che all'europa quindi facilmente si vedono dai paesi nordici svezia islanda eccetera eccetera ma quando questo fenomeno è molto prominente e soprattutto si estende in altezza anche a 600 chilometri di altezza è possibile vederlo magari basso sull'orizzonte anche dalle nostre latitudini allora quali sono gli elementi che hanno gli ingredienti che hanno fatto sì che succedesse primo che siamo vicini al massimo solare il sole ha un periodo di circa 11 anni in realtà sarebbe di 22 anni ogni 22 anni il campo magnetico ruota su se stesso nel sole ma ogni 11 cambia di polarità però quello che succede è che ogni 11 anni c'è un massimo di attività solare quindi maggiori eruzioni da parte del sole maggiore attività solare e noi siamo proprio vicini al massimo e l'altro aspetto è che noi è più facile essendo distanti dal polno magnetico vedere i fenomeni che sono più in alta atmosfera i fenomeni più in alta atmosfera sono quelli che avvengono circa 600 fino a 600 chilometri e sono dovuti all'ossigeno atomico l'ossigeno atomico emette specialmente in una lunghezza d'onda del rosso e quindi è questo il motivo per cui mentre in Norvegia in Islandia e Svezia facilmente i colori diciamo che caratterizzano l'aurore boreali sono verdi, azzurri, anche rosso ovviamente ma diciamo più multicolore da noi si riesce a vedere naturalmente basso sull'orizzonte verso nord solamente quello dell'ossigeno atomico o molto più facilmente quello dell'ossigeno atomico che domina che ha questo colore rossastro questo è il meccanismo che crea l'aurora poi bisogna anche vederla bisogna vederla in effetti e tra l'altro lei diceva ci sono appunto questi cicli ovviamente di attività del sole però non insomma a memoria non ci si ricorda di un'aurora così diciamo 11 anni fa ma ne forse neanche 20 almeno alle nostre latitudini insomma in veneto comunque quindi è davvero stato però qualcosa di eccezionale in una qualche misura e allora come dice bisogna vederlo quindi intanto bisogna anche che sia il cielo pulito e sgombro quindi abbiamo avuto la fortuna ci sono stati anche venti o pioggia o eventi meteorologici che hanno diciamo pulito e reso trasparente l'atmosfera per poterli vedere ci fossero stati in un periodo in cui era nebbia in pianura padana e nuvoloso sulle alpi banalmente l'effetto era potenzialmente visibile ma non si sarebbe visto nulla quindi deve anche esserci la combinazione della visibilità ora il fenomeno è indubbiamente raro nel senso che credo ci siano stati delle dei riporti diciamo importanti negli anni 30 del secolo scorso e mi hanno segnalato delle cose d'epoca diciamo associabili del settecento in cui è stato osservato in pianura padana diciamo questo fenomeno quindi è indubbiamente un fenomeno raro sicuramente siccome è diciamo dominato da questo periodo un decennale in questo momento siamo come dire in una stagione in cui si può vedere e infatti verso la seconda metà la seconda metà di settembre c'era stato qualcosa di simile meno diciamo o similmente diciamo prominente come come quest'ultimo che invece siccome era limpido tutto l'arco alpino e molto della prima padana è stata vista da una grande da una grande quantità di persone però siccome siamo vicini al massimo solare non escluderei che come dire siamo in un periodo di una stagione se si avviene un fenomeno che di nuovo c'è un forte vento solare contemporaneo a grande visibilità della della nostra atmosfera è possibile che si riproduca magari non più nel giro dei prossimi mesi o al massimo di un anno ecco è possibile in qualche modo prevederla anche diciamo sul breve cioè avere un quadro diciamo delle condizioni di ok forse tra un'ora due ore anche sul breve termine ho visto che si sono scatenate anche non so delle app in questo senso però c'è qualcosa di possibile oppure oppure allora siccome noi viviamo in una civiltà tecnologica c'è una dipendiamo da diciamo dal funzionamento di molti satelliti c'è proprio una una branchia diciamo che si chiama la space weather o meteorologia spaziale che studia questi fenomeni proprio per diciamo prevederli e monitorarli in modo per esempio da spegnere o da mettere in sicurezza diciamo i alcuni satelliti per evitare che vengano danneggiati dal vento solare che è una delle concause dopo l'altro fenomeno collegato è quello del geomagnetico diciamo quindi della situazione geomagnetica per cui diciamo è in linea di principio allora ovviamente il vento solare non è prevedibile ma naturalmente siccome impiega un certo tempo dal sole arrivare sulla terra se viene rilevato da alcuni satelliti è possibile conoscerlo con alcune ore di anticipo dopodiché è difficile la previsione di come interagisce con l'atmosfera e naturalmente rimane la cosa banale che se quella sera è nuvoloso diciamo comunque non si vedrà nulla ecco è un fenomeno tra l'altro noi pensiamo è arrivato alle nostre latitudini in realtà ovviamente si ferma molto più a nord e noi lo vediamo perché possiamo immaginare per esempio che se sopra la germania 600 chilometri sopra la germania c'è un evento di questo tipo possa essere visibile dal nord italia ecco però non è arrivato alle nostre latitudini nel senso di poterlo vedere dalle nostre latitudini benissimo grazie mille professor ragazzoni e speriamo allora di poter riassistere a questo spettacolo guardate verso nord e avere l'orizzonte libero grazie a tutti